Sopra me è infrangere i principi sui quali e la salda, un'esemplare, dignità, condizione inammissibile. La discutibile urgenza per cui è indispensabile uniformarsi alla media. Si dice che non mi rinuncia, corrisponda contro partita considerevole. Ma l'eccezione è la regola, insidia la norma, se è vero che ad ogni rinuncia, corrisponda una contro partita considerevole. Si dice che non mi rinuncia, corrisponda contro partita considerevole. E non te, non pura di daio, scaltro, crei che sia una scelta minevole, di gire lo sguardo, se ne l'origine è la propria coscienza. Si dice che ad ogni rinuncia corrisponde un incontro in una vita considerevole, ma l'eccezione non fregola, insidia l'amor, non si è vero che ad ogni rinuncia corrisponde un incontro in una vita considerevole, non privarsi dell'anima, convorterà per la tua ricompensa. E se è vero che ad ogni rinuncia corrisponde un incontro in una vita considerevole, non privarsi dell'anima, convorterà per la tua ricompensa. Grazie a tutti.